Il paziente è un paziente con una patologia oncologica, quindi un tumore all'interno della vertebra e mina le strutture neurologiche, quindi può provocare una vera e propria paralisi. Una volta che si è elevata la vertebra bisogna riposizionare un qualcosa al posto della vertebra, se no il paziente non può camminare, non può vivere senza una vertebra. Di solito noi utilizziamo, noi in tutto il mondo, insomma i chirurghi vertebrali, usano delle protesi che possono essere metalliche o di carbonio, insomma di diversi elementi sintetici. In questo caso è, per la prima volta al mondo, è stato eseguito prelevando una vertebra da un donatore e posizionata al posto di una vertebra del ricevente. Nello specifico quattro vertebre sono state poste al posto di due vertebre che sono state rimosse perché quando noi riposizioniamo la vertebra rimuoviamo anche i dischi. Il discorso è che adesso si sta andando verso la terapia mini-invasiva. Perché uno fa il taglio piccolo? Per essere meno aggressivo. La stessa cosa noi cerchiamo di fare adesso con questo intervento. Cercare di essere più biologici possibile, cercare di levare la vertebra ma lasciare la vertebra. Mettere una vertebra fatta di osso e non di metallo vuol dire evitare le interferenze che il metallo dà alla radioterapia. Noi dobbiamo sempre migliorare, non possiamo accontentarci però permettetemi. Questo trapianto che raccontiamo oggi è davvero la dimostrazione di come qui si uniscono straordinarie professionalità. A questi professori va fatto un monumento, un istituto diretto e ricco di eccellenze straordinarie e una regione che sulla sanità pubblica ha sempre investito e sempre investirà a partire dal fatto, lo dico da Presidente della Conferenza di Regioni, che questi 2 miliardi di euro di incremento che da anni non si vedevano in un solo anno sono diventati certezza, oltre a 2 miliardi di euro in più sugli investimenti che noi faremo fruttare e tra poche settimane vi presenteremo ulteriori investimenti che faremo che non erano previsti perché non avevamo la certezza di ulteriori risorse.